Ciao a tutti e a tutte! Di solito per creare una ricetta si mostrano gli ingredienti. Io invece vi mostro gli ingredienti che ho usato per creare uno dei miei quadri 10x10 che sarà in mostra il 20 agosto a Via del Moro 49 a Trastevere. Parto sempre da una base tridimensionale che ho composto lavorando delle scatole che poi metto sotto pressione per 24 ore in modo da avere questo composite. Dopodiché intervengo pittoricamente e matericamente. Ecco, questo è quello che si usa per fare i mazzi, i fiori. L'ho pitturato di nero perché era a bordeaux e poi ho ritagliato, ho preso un filo sottile per creare il ramo dell'albero. Questa qui invece è la ragnatera che si utilizza quando si deve addobbare per Halloween e questa è una matita affettata che ho lavorato con colla e colore per poter ricreare la chioma degli alberi. Volete sapere quali sono gli altri materiali che ho utilizzato negli altri quadri? Vi aspetto alla mostra.